Questo sabato giocheremo contro Ole Davins che ha tre punti, hanno vinto la prima partita contro il Rivalta 3 a 0 e il sabato scorso ha perso 3 a 1 contro il Piadena. Piadena che tra l'altro era nel nostro girone di Coppa Lombardia, soprattutto sia l'andata che è ritorno a 3 a 0, quindi abbiamo un po' la misura dell'avversario, anche se poi comunque è inutile di sapere programmare su quanto è l'altra squadra, quanto piuttosto vedere noi cosa siamo in grado di fare. Abbiamo constatato che le essenze cominciano a pesare, però stiamo molto lavorando nell'inserire le ragazze fuori ruota, devo dire che pian piano stanno un po' crescendo, di certo non possiamo pretendere che sia all'altezza delle titolari, ma alcune cose siamo andate a rivederle e abbiamo allenato soprattutto il servizio in modo che possa diventare più decisivo, quindi mi aspetto sabato battute più forti con magari qualche errore in più che ci sta e dobbiamo sapere accettare. E poi quello che vorrei vedere è un po' una maggiore aggressività, soprattutto in quanto riguarda il gioco prolungato, quindi le ricostruzioni su difesa, che troppo spesso non abbiamo idea dovuta alle palle o non attaccarle. Quindi mi aspetto che questa seconda partita che giocheremo a casa qui a Vienno possa in qualche maniera farci guadagnare un po' di fiducia in noi stessi e poi se riusciamo a portare a casa il risultato che avvenga. L'importante è avere un atteggiamento meno remissivo, dalla prima a seconda partita questo si è già visto con un accrescimento e se riusciamo ad andare ultimamente in crescita in questo aspetto qua possiamo ritenerci fortunati per la situazione che abbiamo. Quindi ci vediamo sabato e speriamo bene.